Fare cultura sull'importante e delicato tema della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura. Questo è l'obiettivo del convegno organizzato alla Camera di Commercio Etnea dall'Ebat Ciala Catania con il patrocinio della direzione regionale dell'Inail e dell'Asp. Un momento di confronto tra esperti, professionisti del settore, sigle sindacali e imprese per discutere delle iniziative che tutti gli attori coinvolti possono mettere in campo per favorire condizioni di lavoro in piena sicurezza. Molti lavoratori purtroppo ancora sconoscono, comunque non prestano la giusta attenzione a quelli che sono i rischi che corrono tutti i giorni sul lavoro. Dal colpo di calore al rischio di caduta alla guida del trattore. Sono tutti problemi che molto spesso possono essere evitati. evitati con una giusta prevenzione, con una giusta formazione, con delle giuste impegni da parte delle aziende. Siamo sicuri che con gli attori che oggi sono stati presenti qui riusciremo a costruire un percorso virtuoso che ci permetterà di ridurre il numero di infortuni sul lavoro in agricoltura.